...con estrema presidione, con estrema presidione, con estrema bellissima presa. ...con la volta di Humberto Bersani. Humberto, avversario. ...avanza Humberto, avanza. Grazie. Vai Humberto. ...questi sono anni di attività e di esperienza e non centinaia, ma migliaia di lanci. Infatti, qui stiamo dai 3.000 a 4.000 a 6.000 lanci. ...all'atterraggio di chi ce ne ha 3.000 e chi anche 6.000. E solo vi posso garantire una vita, una vita in aria. ...all'atterraggio Adriano Poletta. ...distruttore senior dell'Aeroporto Bersinità e dell'Associazione Nazionale Fargo di tutti gli italiani. ...Adriano Poletta. ...Sterno e Favento avversario. ...Adriano Neogrande, in tutti i terzi. ...Adriano Poletta. ...Adriano Poletta. ...Adriano Poletta. ...Adriano Poletta. ...Adriano Poletta. Il più giovane di tutti. Edvole, un giovanotto dell'altro non c'è un'azione. Signori, il nostro pilota paragonista Bugarelli si delizierà con il passato di nuova, un saluto generale e ci vedremo alla prossima occasione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.